Reputazione e rilevanza, ne parliamo alla BTO con Holiday Check. Buongiorno a tutti, sono Rossana Seghetti di Holiday Check. La reputazione è un concetto un po' astratto, ma che si concretizza molto rapidamente per quanto riguarda il settore alberghiero, ma non solo. Oggi si recensisce tutto, cioè la reputazione online è importante per un libro, per un albergo, per un tipo di vino, ormai l'utente non compra più a scatola cruza, vuole sapere, vuole essere informato prima di effettuare la decisione d'accosto e quindi come albergatore curare la propria reputazione online, la propria reputazione online, significa gestire l'immagine del suo hotel di fronte a milioni di potenziali clienti che non sono lì nella struttura, ma che devono capire come è la struttura e come si comporta la struttura con l'utente. Quindi è importante essere attivi nel dialogo, commentare le eventuali recensioni, scrivere le proprie opinioni, le proprie news, la descrizione del proprio hotel e mantenere sempre con l'utente un dialogo attivo, sia dal punto di vista iconografico, quindi caricato di fotografie, sia proprio dal punto di vista del dialogo, rispondendo a critiche ma anche a delogici. Ecco, Holiday Shank come si pone verso i consumatori nel settore delle informazioni online? Allora, noi ci poniamo molto semplicemente come elemento d'incontro tra domanda e offerta. l'albergatore offre e l'utente chiede un servizio. A zona d'oggi però non è più come fino a 10-15 anni fa in cui l'albergatore poteva stampare le proprie brochure ed era comunque l'utente, il cliente a cercare l'albergo. Oggi è l'albergo che deve farsi trovare e noi siamo una potente cassa di risonanza, soprattutto per quello che è il mercato tedesco, quindi in Italia, quelle regioni, quelle destinazioni che vivono il turismo tedesco, è indispensabile essere presenti sul nostro sito per poter farsi conoscere perché l'utente tedesco non compra se non ha le informazioni e le informazioni, anche per un problema di lingua, non sono sempre reperibili telefonicamente, non si abboglia di spendere le mail, magari siete in tedesco con la risposta in italiano o con l'inglese, insomma la presenza su un portale come il nostro permette all'albergatore con un semplice clic di farsi vedere da tutti i milioni di abitanti tedeschi. Quindi se vogliamo viaggiare, se vogliamo far viaggiare, troviamo online holiday check. Grazie. Grazie, grazie a tutti.